Raccontare i 90 anni di un grande architetto attraverso una mostra antologica sul lavoro del suo studio negli ultimi sette decenni. Il Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano celebra il complano di Vittorio Gregotti con la mostra Il territorio dell'architettura, curata da Guido Morpurgo. I progetti che sono esposti in questa mostra sono il risultato di un grande lavoro collettivo. Un grande lavoro collettivo basato naturalmente su delle idee comuni, sull'idea di condividere un approccio, un metodo nella progettazione architettonica urbana, territoriale, nel design, nelle mostre, negli interni, nella comunicazione, nel disegno del prodotto industriale, attraverso un'idea unitaria, l'idea unitaria di un attraversamento scalare, quindi direi che il tema del progetto integrale è quello che emerge in maniera chiara attraverso tutte le varie sezioni della mostra. A partire dal 1953 lo studio Gregotti Associati ha dato forme spesso tangibili, a volte solo progettuali, a questa idea unitaria estesa a tutte le fasi del lavoro, che ne ha fatto una sorta di caso unico nel panorama architettonico europeo, nella mostra, che procede a ritroso nel tempo, dai progetti più recenti a quelli più datati, si dà particolare risalto al principio di modificazione critica della relazione tra architettura, città e forma del territorio, anche nel caso di progetti che non sono mai stati realizzati, come quello che Morpurgo ha scelto di citare, quando gli abbiamo chiesto di sceglierne uno solo tra quelli presenti al PAC. All'inizio della mostra ho pensato di esporre questo progetto per la centrale policombustibile offshore, che è quella specie di modello grande su quel fondo blu, che è un fondo del mare, che in qualche modo è proprio un elemento radicale, estremo, per rappresentare un'idea di estensibilità dell'architettura a qualsiasi ambiente abitabile. La mostra del PAC, che è accompagnata da un catalogo schierà e resta aperta al pubblico fino all'11 febbraio 2018, inaugura una serie di esposizioni invernali dedicate ai maestri di architettura e design, che proseguirà con Enzo Mari e Ignazio Jacopo Garedella.